Quali sono le cose che ho raccontato? L'anguilla, che era il pesce forse più povero, comunque più diffuso da queste parti, veniva infilato nello spiedo e lo spiedo schioppettava lentamente per ore fuori da casa e quindi i profumi di questo spiedo riempivano i vicoli veneziani di questa piccola Venezia che è Marano. Mio padre diceva con un pizzico di orgoglio e un po' di ironia che la famiglia Raspelli era nata dalle birichinate di qualche nobile nella zona di Coloredo di Montalbano, di Coloredo Mels e mio padre era molto orgoglioso di questo. Forse questa è la leggenda, mio padre purtroppo non c'è più, non posso chiedere conferme, anche perché poi il terremoto dei Friuli a suo tempo incrociando le dita ha distrutto molti documenti. Sicuramente mio nonno che si chiamava Edoardo Raspelli come me era tenente dei carabinieri reali, altra cosa che mi ha sempre riempito d'orgoglio, riempito d'orgoglio mio padre, riempito d'orgoglio me ed era nato a Mortegliano. Penso che i vini della riviera Friulana stanno veramente diventando una realtà, abbiamo scoperto in questi ultimi anni queste zone, questi territori dove l'ospitalità assieme alla bellezza del paesaggistica fanno veramente la differenza. Sicuramente dal punto di vista ambientale credo che la laguna di per sé, cioè questo spazio tra terra e mare con i suoi abitanti, le sue peculiarità, la marea, le brezze, siano veramente una cosa unica, ma non perché è un modo di dire, perché è così. E quindi sicuramente questo giacimento culturale, secondo me da Friulano abbiamo soltanto cominciato a esplorarlo, ha tantissime potenzialità, certamente bisogna saperlo fare con grande lungimiranza e intelligenza perché se si precipitano qua milioni di persone chiaramente diventa un problema e non una risorsa. Ma questo sicuramente, l'altra cosa è la parte effettivamente gastronomica, perché anche io che sono uomo di cultura del maiale però devo riconoscere che ad esempio il bisatto in speo o certi modi di fare il pesce che si fa da queste parti è senz'altro eccezionale anche in questo caso, quindi anche questo secondo me ha possibilità di valorizzazione notevoli.